pollicioni verdi buongiorno oggi inizia una tre giorni molto importante per il prato di besprato perché andremo a eseguire due tre importantissime lavorazioni che dovrebbero essere eseguite in tutti i prati che non sono in uno stato perfetto alla fine dell'estate sto parlando delle operazioni di rimozione del feltro e sto parlando delle operazioni di ressemina il prato laboratorio di besprato sarà oggetto questo weekend di un tour de force molto particolare nel quale andremo a eseguire prima domani una rimozione del feltro e dopodiché domenica metrologia e tempo permettendo andremo a eseguire la rissemina del prato queste due operazioni arieggiatura sfeltrimento arieggiatura un termine un po improprio ma insomma passiamoci sopra e rissemina sono un classico delle lavorazioni da fare nel prato per sfruttare quella che è la stagione in assoluto migliore ovvero la fine dell'estate vi racconto un po come verranno eseguite le lavorazioni nel prato di besprato perché in buona sostanza andremo a mettere in pratica i dettami le strategie perfette del metodo besprato quello che mi avete visto fare un attimo fa e la cosiddetta concimazione di transizione perché ho fatto e perché apro le danze di queste importanti lavorazioni con una nutrizione e nello specifico con una nutrizione di tipo fogliare non andare via perché al termine di questo video ti dirò sia che prodotti ho utilizzato e sia i miei personali dosaggi per capire il motivo di questa importante concimazione bisogna fare una premessa la premessa è che prima delle operazioni di arrieggiatura e prima delle operazioni di risemina è sconsigliato fare qualsiasi tipo di concimazione di tipo granulare questo per il semplice fatto che le operazioni di arrieggiatura di rimozione del feltro fatta con le lame andrebbero a rovinare le caratteristiche le peculiarità ad esempio di concimi a lenta cessione tutte le operazioni di concimazione di nutrizione nel prato ha senso farle esclusivamente dopo aver eseguito le operazioni di rimozione del feltro avendo però io deciso di far seguire la rimozione del feltro anche una risemina non posso andare a eseguire delle concimazioni che sono troppo importanti ovvero delle concimazioni che andrebbero a spingere in maniera eccessiva il prato esistente e qui sta il nocciolo della questione e qui sta il motivo per il quale ho deciso di intervenire prima della rimozione del feltro e prima della risemina con una concimazione di tipo liquido l'obiettivo è quello di fornire quel po quel tanto che basta di concime per far sì che il prato esistente venga nutrito in una maniera bilanciata e corretta senza però indurlo a crescere troppo in quanto dovrò fare una risemina e il fatto che il prato esistente cresca velocemente rispetto al prato nascente quello riseminato creerebbe una competizione eccessiva ma d'altra parte non posso neanche permettermi di lasciare il prato esistente completamente privo di nutrimenti alla fine dell'estate e quindi i pollicioni verdi veramente verdi prima della operazione di rimozione del feltro seguita poi da una risemina eseguono questo trattamento e la cosiddetta concimazione di transizione di attesa di chiamatela un po come volete ne abbiamo dati molti termini a seconda di quale momento e per quale scopo viene utilizzata è una concimazione che ti permette di estendere i periodi nutritivi è una concimazione che ti permette di attendere qualche settimana prima di entrare con la nutrizione importante con la nutrizione ad esempio dell'autunno andiamo adesso a vedere che tipo di prodotti si possono utilizzare e che tipo di prodotti ho utilizzato io faccio una piccola premessa non è detto che tu debba utilizzare per filo e per segno gli stessi prodotti che sto utilizzando io anche perché oggi ho fatto un trattamento un po particolare non proprio perfettamente in linea con il metodo besprato la sostanza c'è però ci ho aggiunto qualcosa di nuovo sono andato utilizzare dell'azoto fosforo e potassio in forma liquida sono andato a fare un trattamento con un prodotto specifico diluito in acqua un bilanciato leggermente spostato sulla fornitura maggiore di azoto che ha al proprio interno anche una serie di micro elementi perché voglio andare a creare una situazione corretta da un punto di vista delle possibili e potenziali carenze ovvero fare in modo che non vi sia nulla di mancante nel prato che tra pochi giorni anzi a questo punto tra poche ore verrà riseminato nella descrizione di questo video ho inserito il link al prodotto specifico è un prodotto che troverai nello store di besprato ti dicevo un attimo fa che a questo tipo di prodotto che utilizzato in un dosaggio circa di 400 grammi per 10 litri d'acqua in 100 metri quadri di prato sul utilizzando il prodotto che troverai in descrizione questi sono i dosaggi che ho utilizzato io ma i dosaggi possono variare del 20 per cento a seconda di quanto tu vuoi spingere nel tuo prato per fornirgli nutrimento quanto invece puoi vuoi rimanere carente nei confronti dell'introduzione degli elementi nutritivi a questo questo concime che ho utilizzato e che troverai il linkato in descrizione al proprio interno anche del ferro ma io ho voluto aggiungere a questo prodotto una novità assoluta almeno una novità per quanto riguarda il metodo besprato ovvero sono andato ad introdurre del ferro chelato cioè un prodotto che troverai sempre nei link in descrizione nel caso specifico si chiama iron 65 che sono andato a mescolare alla concimazione bilanciata per fornire un ulteriore spinta di ferro qual è il motivo che sta dietro questa scelta di andare fuori dagli schemi del metodo besprato è semplicemente per il fatto che il terreno che vedi alle mie spalle e l'acqua che io utilizzo è un acqua è un terreno fortemente alcalini hanno cioè un ph che addirittura sfiora 8 e questo è un valore in assoluto che può provocare una scarsa disponibilità del ferro io ho un tipico problema di ingiallimento precoce del prato non dovuto a problemi di mancanza di acqua non dovuto a problemi di malattie fungine ma dovuto al fatto che manca del ferro o meglio il ferro magari è presente ma il pianca non lo rende facilmente assimilabile anzi lo fa precipitare per cui è mia preoccupazione spesso introdurre nelle mie concimazioni anche questo tipo di elementi questo mi permette di dirti un concetto molto importante da tenere sempre a mente che il metodo besprato va comunque sempre adattato a quelle che sono le caratteristiche del tuo prato e l'analisi del terreno in particolar modo l'analisi del ph dal mio punto di vista è una misurazione che non può mancare nelle cose che devi fare almeno una volta nella vita del prato c'è una buona notizia che da quest'anno abbiamo inserito nello store di besprato dei piccoli strumenti sono dei ph metri e all'interno del blog trovi anche la procedura fai da te per farti le analisi tue del ph del terreno bene pollicioni verdi concludo questo video ricordandoti che nella descrizione troverai degli approfondimenti il primo approfondimento riguarda il prodotto che ho utilizzato che mi hai visto utilizzare e dopodiché ho inserito anche un approfondimento relativamente alla concimazione di fine estate o concimazione di transizione poi alla fine si tratta sempre dello stesso tipo di strumento di stesso tipo di strategia ed infine ovviamente ti ho inserito la guida completa alla rimozione del feltro del metodo besprato operazione che io farò domani e la guida completa alla risemina del prato di fine estate che io farò tempo permettendo dopodomani questa mattina non so se si vede vediamo di allargare un l'inquadratura questa mattina laggiù non so se si vedono penso di sì sono arrivati i bancali di terriccio era una cosa che avevo paura che non arrivasse in tempo invece ce l'ho fatta ce l'abbiamo fatta o il terriccio per eseguire la risemina e quindi se la meteorologia mi supporterà questo fine settimana eseguirò anche la risemina del prato e quindi vedremo nei prossimi video anche degli approfondimenti su questa importantissima operazione bene ti ricordo come sempre di mettere un bel mi piace qualora tu trovassi interessanti questi video prendi sempre in considerazione di iscriverti al nostro canale youtube attivando anche la campanella per venire avvisato di quando escono i nuovi video i prossimi video e con questo è veramente tutto io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video ciao a tutti i pollicioni